Di redazione Pza Plattrice viene colta di sorpresa da un romantico gesto del suo fidanzato a una proposta di matrimonio al grande fratello VIP 2018. E quanto sarebbe successo nelle ultime ore fuori dalla casa di Cinecittà? Nel bel mezzo della sera, mentre i concorrenti sono in giardino, alcune voci squarciano il silenzio sopra i cieli di Roma. Un megafono sembra urlare ripetutamente il nome di Jane Alexander Tiano, ma poco dopo una seconda voce fa dubitare l'attrice che si tratti del suo fidanzato. Un po' delusa Jane si fa in disparte e altri inquilini riconoscono Enrico Silvestrin che saluta i compagni d'avventura. Il sito del DFVIP riporta che fuori dalla casa c'è anche Maurizio Battista insieme all'ex VEJ di MTV, ma è la più lucida Giulia provvede a chiarire la situazione qui il video.La metà delle donatella infatti si avvicina alla Alexander spiegandole che il suo compagno Gianmarco Amicarelli ed Enrico sono fuori dalla casa insieme. Il primo avrebbe chiamato a gran voce Jane, seguito da Silvestrin intromessosi per salutare i compagni, ma poi il megafono sarebbe tornato tra le mani di Amicarelli che avrebbe urlato vuoi sposarmi? .Frastornata ed emozionata Jane si lascia abbracciare dai compagni in festa. Non è la prima volta che il DFVIP diventa sede di proposte di matrimonio ricordiamo ancora tutti quella molto romantica di Daniele Bossari a Filippa Lagerbeck durante la passata edizione.Grande Fratello VIP 2018 Tutte le puntate grande Fratello VIP 2018 Il commento